Diciamo che con questi interventi il cambio di passo è del tutto evidente. Si passa da una sanità baricentrica ad una sanità che garantisce il diritto alla salute su tutto il nostro territorio, dal nord al sud della regione, dalla costa all'entroterra, tra grandi e piccoli centri. 923 milioni di investimenti che prevedono, tra quelli più importanti, anche l'edificazione di nuovi ospedali, come quello di Pesaro, di Macerata e di San Benedetto del Tronto, ma il cambio di passo si vede anche nella costruzione di sei nuove palazzine. Penso a quella di Urbino, a quella di Fano, a quella di Senigallia, a quella di Fabriano, a quella di Civitanova a Marche o di Ascoli Piceno. Ossia sono palazzine che saranno destinati a gestire le emergenze e urgenze nei nostri ospedali. Palazzine e ospedali alla terza del terzo millennio. Si parla di una svolta molto importante, storica per il territorio, per la sanità, che torna a guardare i miscusi dal territorio, per una sanità che deve tornare nella prossimità e soprattutto una organizzazione che oggi guarda gli aspetti infrastrutturali e soprattutto anche strutturali in termini di dotazioni strutturali per far sì che la sanità possa essere all'altezza della sfida. Ma deve anche guardare un input molto importante a recuperare quella capacità di saper costruire una risposta anche in termini di professionalità che viene determinata dal numero enorme di professionisti che stanno andando verso l'età pensionabile a fronte della quale non c'è ancora un numero di professionisti che deve supportare questo ricambio generazionale. Le case della comunità sono un'evoluzione moderna delle case della salute. È l'idea del governo a livello nazionale per sopperire alla carenza di servizi sul territorio e principalmente anche alla carenza di medici. Cosa sono le case della comunità? Sono il raggruppamento di tutti i servizi territoriali composti dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle adi, dagli infermieri di famiglia, dai sociologi, psicologi e così via. I criteri sono stati quelli di mettere accanto a ogni ospedale per acuto possibilmente un ospedale di comunità e delle case di comunità. Per esempio è stato individuato a Galantara che serve e servente all'ospedale di Pesaro. È stato individuato l'intervento su Cagli e su Fossombrone che sono ospedali di comunità che sono serventi all'ospedale di Fano.